Ci sono gli highlights, questa è la partenza in regime di CFT Car. In questo momento la CFT Car se ne va, poi c'è subito un testa-coda che coinvolge Erwin Zanotti e il nostro Simonazzi. Entra in pista la CFT Car con delle posizioni di classifica che potrebbero cambiare poi alla fine perché qualcuno ha superato in questo regime. C'è un altro incidente, si agganciano altre due vetture ed è il momento in cui Durksen dalle retrovie risale e a suon di sorpassi va ad annusare zona podio. Vedete che supera in questo modo la vettura di Erasmussen, poi c'è Stanek che si sbarazza di Aido Cohen, si mette in seconda posizione e va ad attaccare Petekov. Qui è Famularo che viene centrato dall'argentino Carrara, ritiro per colui che era arrivato terzo nella corsa di ieri. E questo è l'epilogo di una gara spettacolare con il bellissimo sorpasso da parte di Roman Stanek ai danni. Di Gianluca Petekov in terza posizione Durksen, in quarta Aido Cohen che comunque ha disputato un'ottima gara. E in quinta abbiamo Belov, in sesta Alatalo, in settima Umberto Laganella. Ottava Auger, grande prestazione, partiva ultima posizione.